Benvenuti sul nostro canale. Oggi vi portiamo le anticipazioni di Endless Love per giovedì 30 e venerdì 31 maggio, inclusa la puntata serale. Scopriremo insieme come Nian e Kemal vengono a conoscenza della verità su Tariq e del piano diabolico che Emir sta orchestrando, utilizzando il fratello di Kemal. Inoltre, Vildan sarà devastata. Oltre a essere continuamente derisa da sua nuora, scopre di non essere la proprietaria della casa sottratta a Leila, e che quest'ultima riprende il suo posto nella compagnia. Non perdetevi questo video ricco di colpi di scena. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità di Endless Love. E se vi piace questa serie, dimostratelo con un like al video. E ora cominciamo! Emir e i suoi uomini, tra cui Tufan e Tariq, arrivano sul posto e catturano Taner, ma Nian non è lì. Furioso, Emir chiede dove sia sua moglie. Il marito di Karen gli fa capire che è fuggita con Kemal. Emir decide di non consegnare Taner alla polizia, ma di punirlo personalmente. Quando Tariq chiede a Tufan quali siano le loro intenzioni, Tufan risponde con un gesto esplicito, alludendo all'uccisione di Taner, lasciando Tariq visibilmente preoccupato per la pericolosità della situazione in cui si trova coinvolto. Nel frattempo, Kemal e Nian sono ancora nel bosco. Dopo essersi lasciati andare a un bacio liberatorio, Kemal si scusa, chiedendo perdono per averla baciata d'impulso. Si sente a disagio a vivere il loro amore nel peccato e di nascosto, una cosa che non vuole più accettare. Kemal ammette di vivere nel tormento di voler stare sempre con lei, ma che non possono. Lamenta che Nian si è lasciata condannare da suo fratello, ma non è giusto che entrambi vivano un amore proibito. Allora Nian, senza rivelare ciò che ha saputo da Taner, ovvero che non è stato Ozan a uccidere Linda, chiede se vuole che mandi in prigione suo fratello per stare con lui, e gli chiede cosa avrebbe fatto lui se fosse successo a Zeynep quello che è successo a Ozan. Kemal risponde che avrebbe fatto la cosa giusta. Emir, intanto, cerca di mettersi in contatto con Nian, ma il telefono di sua moglie è ancora spento. Controvoglia, decide di chiamare Kemal, che lo informa che Nian sta tornando a casa. Emir, infuriato, gli chiede se non ha altro da fare, oltre a occuparsi di salvare sua moglie. Kemal gli risponde chiedendo se la preferiva morta, visto che lui le ha salvato la vita proprio quando un complice di Taner stava per spararle alla testa. Emir non accetta che sia stato Kemal a salvare sua moglie, e lo minaccia, garantendo che entro tre mesi lo metterà alla prova quando dovrà prendere delle decisioni in cui saranno coinvolti i suoi fratelli. Emir poi chiama Banu, e gli ordina di cominciare a cucinare Tarik a fuoco lento, metaforicamente parlando. Dopo una serie di tensioni e incertezze, Nian finalmente torna a casa sana e salva. Il suo rientro è segnato dalla rabbia e dalla frustrazione. Zeynep si mostra divertita all'idea che suo fratello Kemal abbia salvato Nian prima del marito di lei. Emir, furioso, accusa Onder di tradimento per aver collaborato con Kemal. Poi si rivolge a Ozan, facendogli credere di proteggere la famiglia solo per il suo bene, scaricando così la colpa su Ozan e su Onder, che aveva collaborato con Kemal nascondendo le informazioni su dove cercare Nian. Sopraffatta dai litigi, Nian dichiara di essere stata rapita per soldi e poi si ritira nella sua stanza con Emir per parlare privatamente. Qui lo accusa apertamente di essere responsabile della morte di Karen. Emir, per difendersi, rivela che pur avendo coperto il crimine, il vero assassino è Tarik. A casa, Leila che vive temporaneamente da Kemal, lo rimprovera per aver rischiato la vita cercando di salvare Nian da solo contro criminali pericolosi. Kemal ammette di sentirsi posseduto dal pensiero di Nian e di non aver esitato un attimo a cercare di salvarla, temendo di perderla per sempre. Confessa di averla baciata e di aver provato un forte sentimento di appartenenza, pentendosi subito dopo, ricordando che Nian è sposata con Emir. Leila gli chiede se è disposto a vivere un amore proibito, ma Kemal risponde di no, aggiungendo che se ne andrà via finché Nian non divorzierà da quel matrimonio che lui definisce sanguinoso. Nian, ancora scossa, riflette sulla rivelazione che sia stato Tarik a uccidere Karen. Dubitando, chiede a Emir se si tratta di un altro dei suoi trucchi, ma Emir risponde che sta proteggendo suo fratello Ozan e ora anche il fratello di Kemal. Afferma di tenere a Nian, mentre accusa Kemal di non preoccuparsi dei suoi fratelli. Emir spiega di aver promesso di proteggere Tarik, ma, avendo esaurito la pazienza, farà pagare a Kemal il tempo trascorso con Nian, smettendo di proteggere suo fratello. Il mattino seguente, Zeynep entra nella camera di Emir e lo deride per essere solo, senza Nian accanto. Emir, provocatorio, le dice che pensa sempre a lei e che la desidera, ma che lei ha scelto di sposare Ozan. Zeynep gli si avvicina pericolosamente, sembra essere quasi sul punto di baciarlo, ma si allontana e con disprezzo dice che lo odia nel profondo dell'anima, ma aggiunge che un giorno lui si innamorerà di lei e supplicherà di averla ancora. Nel frattempo, Onder si presenta alla porta di Kemal e lo ringrazia per aver riportato a casa sua figlia sana e salva. Poi chiede di Leila e, parlando con lei, la informa di una riunione sull'aumento di capitale della società e del prossimo cambiamento nel consiglio di amministrazione, invitandola a partecipare all'assemblea. Quando Kemal chiede cosa volesse Onder, Leila risponde che vuole solo ripulirsi la coscienza. Asu informa Feime delle condizioni di salute dello zio e si dice disperata perché, oltre a Kemal e suo zio, non ha nessuno. Feime, dispiaciuta per il signor Akhi, le dice di considerarla come una madre. Asu allora confessa di essere innamorata di Kemal e che suo zio ha parlato con lui delle sue ultime volontà, tra cui guidare la compagnia e sposare sua nipote. Feime, inizialmente felice, rimane gelata quando Asu le dice che Kemal ha rifiutato perché è innamorato di Nihan. Feime rassicura Asu dicendo che tutto ciò che vuole è vedere suo figlio Kemal sposato con lei ed è sicura che suo figlio rispetterà il volere di sua madre. Nihan avverte Kemal del piano che Emir sta orchestrando contro di lui. Gli racconta che ha scoperto da suo marito che è stato tarica a uccidere Karen e che questa sarà la sua carta vincente per incastrare Kemal. Lui le dice di esserne già al corrente perché Emir l'ha chiamato per informarlo, ma è certo che scoprirà il suo gioco e non gli permetterà di ricattarlo come sta facendo con Nihan e la sua famiglia. Poco dopo, Kemal chiama Zeir. Vildan e Galip si recano insieme per firmare i documenti di trasferimento di proprietà della casa di Leila acquistata all'asta. Vildan è estremamente riconoscente verso Galip per averle permesso di ottenere la casa e gongola per essersi vendicata di sua sorella. Tuttavia, la situazione prende una piega inaspettata quando si accorge che è Galip a firmare l'atto di vendita al posto suo. Immediatamente, realizza di aver commesso un errore, ma Galip le ricorda che l'accordo prevedeva solo che lei si vendicasse della sorella, mentre lui aveva acquistato la casa per la famiglia, destinandola ad Emir e Nihan. Vildan è scioccata, comprende di essere stata ingannata, perdendo la casa di suo padre per la sua futile vendetta. Incapace di nascondere il suo turbamento, Vildan si reca con Galip alla sede della compagnia, dove si tiene l'assemblea tra i soci per l'aumento di capitale. Qui, subisce un secondo duro colpo vedendo sua sorella entrare in sala. Leila riprende il pieno controllo delle sue responsabilità come socia dell'azienda e non sarà più rappresentata da Vildan mandandola su tutte le furie, e come se non bastasse, Onder gira il coltello nella piaga, ricordando a sua moglie di essere stata lei a iniziare questa guerra familiare. Azu, determinata a conquistare il cuore di Kemal, rivela il suo piano a Akhi. Gli confida di avere una strategia e di poter contare sull'appoggio di Feimè, convinta che questo le darà un vantaggio decisivo. Nel frattempo, Kemal affronta Tufan, sostenendo con fermezza che suo fratello Tariq non sia coinvolto nell'omicidio di Karen. L'alibi fornito da Banu sembra supportare questa convinzione, ma Kemal ignora ciò che Tufan gli dimostra poco dopo. Banu ha mentito. Nihan, decisa a fare chiarezza, incontra direttamente Tariq. Durante il loro confronto, Tariq, visibilmente stressato e frustrato, proclama con vehemenza la sua innocenza, negando ogni coinvolgimento nell'omicidio di Karen. Poco dopo, sopraffatto dalla pressione, si confida con Emir, esprimendo il suo stato di angoscia e panico. Emir lo rassicura facendogli credere di essere il suo unico amico, e lo proteggerà. Nel frattempo, Asu si trova di fronte a un dilemma personale e cerca l'aiuto di Kemal per convincere Hakki, gravemente malato, a trascorrere i suoi ultimi giorni in ospedale per ricevere le cure necessarie. Tuttavia, Hakki è irremovibile e rifiuta categoricamente l'idea di andare in ospedale. Nonostante il suo stato di salute, Hakki insiste affinché Kemal accolga le sue ultime volontà, sposare sua nipote Asu e guidare la compagnia insieme a lei. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete «Voglio il seguito» nei commenti. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!